Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per lavori, code di 2 km tra Badia e BV1 Variante nei due sensi di marcia. Traffico inoltre verso nord, code a tratti tra BV1 con Planare e Firenze Nord e BV1 Variante, carregiato posto a rallentamenti tra Rioveggio e Aglio. Ci spostiamo in A12 per incidente, sono 5 i km di coda tra Colle Salvetti e Rosignano verso Rosignano. Traffico inoltre coda in uscita alla barriera di Rosignano, ancora una volta verso Rosignano. Prima di salutarci per il traffico ferroviario informiamo che la circolazione sarà sospesa sulla linea Pisa-Lucca dal 30 luglio al 7 agosto per consentire la demolizione da parte del gestore stradale di un cavalcaferrovia in località Ripafratta. I collegamenti tra Pisa e Lucca saranno garantiti con un servizio di bus sostitutivo. Muoverse in Toscana è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!